Domenica 1 agosto la partita fra Vispesaro e Grosseto sarà la prima amichevole della squadra bianco-rossa versione 2021-2022. Si giocherà a Chianciano Terme Borgo Senese che dal 19 luglio scorso ospita la Vis in ritiro a lavorare agli ordini del nuovo allenatore Marco Banchini. Una Vis già in avanzato stato d'assemblaggio considerando che l'allenatore ex Como può godere di una bozza verosimile di Vis che affronterà il prossimo campionato. Pozza in cui è netto il taglio col passato recente. Della Vis che a maggio si è guadagnata il suo quarto anno consecutivo di Serie C salvandosi con due turni d'anticipo sono rimasti in rosa i soli Gucci, Cannavò, Giraudo, Egiachi e Di Sabatino. Nuovi portieri con l'arrivo dell'ex Juve Stabia Farroni e del giovane Campani dal Sassuolo. Ampie le novità anche in difesa dove sono arrivati gli esperti Gavazzi e Manetta da Foggia e Fermana, Pellizzari dal Legnago e Millennial di belle speranze come Cusumano dal Cagliari o Saccani, Piccinini e Pinelli da quel Sassuolo al quale la Vis sta attingendo a piene mani. A centrocampo c'è l'esperienza di Coppola, ex capitano del Potenza, la fantasia di Marcandella della Virtus Verona, il dinamismo di Besea della Viterbese e le forze giovani di Domenico Rossi dal Venezia, Denuzzo dal Como, Lombardi dal Monza, senza dimenticare ma Strippolito e Mercuri messi in mostra in Serie D con Pineto e Lavello. In attacco le conferme di Gucci e Cannavò saranno affiancate da nomi intriganti come quello dell'ex Piacenza De Respinis e del sudamericano Martin Tonso, trequartista argentino, con trascorsi luccicanti in patria nel campionato cileno, in Coppa Libertadores eppure nella massima Serie greca. Lavora sul campo la squadra di Banchini, lavora in fase di sfoltimento la società del presidente Bosco. Tanti i calciatori sotto contratto dalla quale la Vis ha deciso di separarsi, già ceduti Marchi, Deramo e Blumamona, già svincolati Marchegiani e Germinale. Restano però ancora da piazzare Gelonese, Gennari, Lazzari, De Feo, Nava, Pezzi ed Eleuteri.